Quella pagina principale del nostro notiziario, occupandoci ancora una volta di scuola, università e in generale dei gravi problemi che stanno intaccando il nostro sistema di istruzione. Dopo le numerose mobilitazioni che il sindacato di categoria della CGL ha messo in atto nelle scorse settimane, continuano le proteste e i momenti di confronto e il prossimo 28 ottobre il mondo della scuola, dell'università e della ricerca di Parma e Reggio Emilia si ritroverà al fuori orario di Tanito di Gattatico per la prima festa della conoscenza della FLC CGL. Pur essendoci poco da festeggiare, Simone Saccani, segretario generale della FLC CGL di Parma, ci spiega perché è importante esserci e qual è il senso e il programma della serata. Dopo le varie iniziative che la FLC CGL ha messo in atto in queste settimane, ricordo il volantennaggio del primo giorno di scuola, il presidio davanti all'ingresso dell'università, le assemblee che stiamo conducendo, i comitati di accoglienza a Limina, il banchetto in Viale Mazzini, abbiamo deciso di fare un'altra iniziativa per portare il nostro messaggio fuori dal mondo della scuola. Abbiamo organizzato un'insalata diversa, una notte della conoscenza in cui ospiti illustri da Padellaro, Aiacona, Monio Vaddia, Claudio Fava e altri ancora saranno presenti nella nostra festa, appunto, o notte, per parlare di scuola in un modo diverso e quindi pensiamo a una platea diversa da quella che incontriamo nelle nostre iniziative. Penso che sia importante per tutti partecipare, sarà alle 8 di sera, a Tanneto fuori orario, per chi vuole venire dopo cena alle ore 9. Questa iniziativa nasce nell'intento di spiegare, dopo tutte le denunce che la FLC ha fatto nel territorio di Parma sulle ricadute della riforma Gelmini, anche ribadire il concetto che il sindacato ha delle sue proposte sul modello di scuola diverso, una narrazione di società che vogliamo cambiare. Questo è il primo appuntamento diverso in questa direzione, nel quale ci confronteremo anche sulle nostre proposte, l'apriremo alla cittadinanza e ai lavoratori della scuola, che precede quello che sarà il primo di dicembre, o meglio, la prima settimana di dicembre, con gli stati generali della conoscenza, ossia saranno due giorni intensi, nel quale appunto l'FLC aprirà intellettuali, associazioni, movimenti, partiti politici, le proprie proposte e cercherà di farne una da controbattere alla riforma Gelmini.